Dio ti saluto Maria, Dio ti saluto Maria, Dio ti saluto Maria, O Maria, io ti saluto trentatremila volte, come ti ha salutato l'Arcangelo San Gabriele, e gioia per il tuo cuore ed anche per il mio cuore, che l'Arcangelo ti abbia portato il saluto dal Cristo. Ave Maria, grazia plena ad hominus tecum, benedicta tui murieribus e benedictus fruttus ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc che din ora mortis nostri. Amen. Dio ti saluto Maria, Dio ti saluto Maria, Dio ti saluto Maria, Dio ti saluto Maria, Maria, O Maria, io ti saluto trentatremila volte, come ti ha salutato l'Arcangelo San Gabriele, e gioia per il tuo cuore ed anche per il mio cuore, che l'Arcangelo ti abbia portato il saluto del Cristo. Ave Maria, grazia plena ad hominus tecum, benedicta tui murieribus e benedictus fruttus ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et din ora mortis nostri. Amen. Dio ti saluto Maria, Dio ti saluto Maria, Dio ti saluto Maria, Dio ti saluto Maria. O Maria, io ti saluto trentatremila volte, come ti ha salutato l'Arcangelo San Gabriele, e gioia per il tuo cuore ed anche per il mio cuore, che l'Arcangelo ti abbia portato il saluto del Cristo. Ave Maria, grazia plena ad hominus tecum, benedicta tui murieribus e benedictus fruttus ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et din ora mortis nostri. Amen. Un santo saluto da Radio Sole Viva e del vostro Salvatore.